Ciao amici di Chef in Cucina, ben ritrovati, oggi torniamo a fare la nostra spesa a Chieti ed è con grande piacere che torniamo da Conad Marruccino beh amici siamo in estate, quale migliore occasione per comprare delle verdure fresche di stagione oggi acquisterò delle melanzane, delle zucchine e dei peperoni e questo reparto ortofrutta è veramente tanto invitante eccoci qui pronti con le nostre fresche verdure di stagione alle nostre verdure freschissime abbiniamo un altro prodotto pieno di freschezza della ricotta e come sempre ci affidiamo al marchio Conad risparmio e qualità beh amici oggi sono soddisfatta dei prodotti che abbiamo acquistato, non ci rimane che passare in cassa eccoci qui, corriamo ad Antonio Ciao amici di Chef in Cucina, ben ritrovati, l'estate è finalmente arrivata e io veramente con tanto entusiasmo torno a riaprire le porte di un ristorante fantastico sto parlando di Fonte Artana e del suo grandissimo chef Antonio Di Giovacchino signori bentornati, ciao Jennifer, mi sei mancato sta bene, tutto bene sto benissimo, l'estate è finalmente arrivata e io per essere in linea con i tempi ho fatto una spesa molto estiva e nei nostri Conad che sono sempre fornitissimi ho comprato della ricotta e delle verdure di stagione benissimo perché so che poi le verdure sono un po' la tua passione questo è il mio cavallo di battaglia, la stagionalità, tu lo sai certo, ormai ci conosciamo e insomma sciogli la tua fantasia allora io con queste praticamente vedendo tutti questi ortaggi così mi viene da fare una pasta allo sparone al ciabotto allora il ciabotto so che cos'è il ciabotto sai cos'è, sono delle zucchine, melanzane, peperoni, cipolletta bianca se lo vuoi un po' piccante ci metti un po' di perroncino se lo vuoi un po' rosso puoi aggiungere anche un po' di pomodorino appena appena un po' no, dopo troppo rosso no la pasta allo sparone è una tipica pasta abruzzese sparone sparone perché lo sparone? adesso ti spiego perché praticamente questa pasta veniva attorcinata così e poi messo lo sparone perché prima la carta agentata non c'era adesso ti faccio vedere il passaggio lo sparone e poi immerso nell'acqua a farlo bollire per una decina di minuti si rafferma e poi si taglia a fette dai e questa è la pasta allo sparone adesso la andiamo a fare così magari si renderanno conto i nostri spettatori molti già conosceranno la pasta allo sparone ma quelli un po' più giovani i polassi che vogliono vedere e rendersi conto di che cosa si tratta guardate amici Antonio è unico riesce sempre a tirare fuori le tradizioni abruzzesi e poi a renderle attuali e accessibili a tutti Antonio sei fantastico è semplicissima la ricetta è semplicissima allora abbiamo bisogno della ricotta freschissima di mucca se si vuole un po' sare un po' più piccante di pecora poi andiamo a mettere del formaggio stesso discorso qua se piace il pecorino un po' più piccante il ripieno si mette il pecorino altrimenti si può mettere un formaggio di mucca se no se si vuole si mette tu cosa stai utilizzando Antonio? io sto utilizzando un misto questo è un po' di pecorino e un po' di formaggio di mucca così non è troppo piccante però un po' si sente è equilibrato è equilibrato ok poi andiamo a mettere due uova intere le uova quanto mi sono mancati i tuoi piatti ecco qua vedi poi mettiamo un po' di sale e un po' di pepe che a me piace tantissimo ecco qua qua ci sta bene sì ecco qua allora poi assembliamo il tutto assembliamo il tutto questo composto che è il semplice composto del ripieno dei ravioli mettiamolo un po' a favore di camera i ravioli ok ok facciamo un bel composto se ci serve ancora un po' di formaggio aggiungiamo ancora un po' di formaggio perché mi sembra un po' morbido ok vai tanto carica che a me le cose saporite mi piacciono tanto ecco qua il composto deve essere omogeneo non troppo morbido e non troppo duro ok sono talmente curiosa di assaggiare questa pasta perché non l'ho mai mangiata questa è la ricetta tradizionale era fatta diversamente perché dopo una volta fatto questo qua la pasta allo sparone si rimetteva in forno si rimetteva in forno con del sugo di carne del formaggio sopra e si faceva di nuovo cucinare dentro al forno questa è una cosa un po' più estiva un po' più fresca per mangiare una pasta ripiena però allo stesso tempo ripiena però un po' fresca un po' più ok allora il composto è pronto adesso abbiamo una sfoglia una semplice pasta una semplice sfoglia fatta con uova e farina andiamo a mettere il composto ok ah quindi come se fosse un raviolo gigante ecco qua questo qua ok ah quindi adesso dobbiamo praticamente avvolgerlo andiamo a avvolgerlo ok ecco qua ecco qua la funzione dello sparone è che adesso usiamo la carta argentata un po' per igiene perché a volte dopo bisogna usare sempre lo stesso sparone non lavato con detersivi certo mi sa che si usa solo in cucina se no il sapore certo basta pensare insomma al profumo del detersivo che poi insomma cambierebbe praticamente andiamo a mettere un po' d'olio sopra la carta argentata e mettiamo ecco qua e questo Antonio come tempi di cottura? tempi di cottura un quarto d'ora una mezz'oretta un quarto d'ora dipende dalla grandezza ok ma pensa che un quarto d'ora così ci dovrebbe stare ok perfetto quindi abbiamo tutto il tempo di realizzare il condimento di realizzare il condimento ok allora adesso l'andiamo a mettere dell'acqua che già bolle acqua non salata solo acqua che bolle perfetta adesso noi andiamo togliamo questo andiamo a fare Jennifer e il nostro condimento e quanti vuoi aiutare? e allora cottello come ti piace grande piccola e allora delle carote delle zucchine ok facciamo insieme e dai insieme io prendo e che faccio io? io prendo allora prendi prenditi ti metti lì le carote ok vado e io comincio con delle zucchine ok quindi prendiamo le carote e poi le dobbiamo tagliare a dadini a dadini io li faccio possono dopo dipende un po' anche dalla simpatia dei tagli delle volte ok io li faccio a dadini perché sopra ci sta meglio però si può tagliare anche la julienne si può tagliare a dadi grossi piccoli come si vuole io Antò adoro le verdure mi piacciono tantissimo e qua ci stanno proprio un po' tutte e anche non si può sbizzarrire se qualcuno vuole mettere anche qualche altra cosina ok questo poi lo togliamo con il coltello questo ci siamo e ci siamo con queste quanto sei veloce Antò ammazza ecco qua la zucchina ecco la carotina è pronta mi togli indandomi da una pulitina alla cosa? alla melanzana pure mi togli la parte di sopra ok allora prendo prendo un coltello prendo questo si si prendo io spreco un po' di cose quando pulisco le verdure non si butta niente però bisogna starci un po' attenti perché le cose non vanno buttate soprattutto se sono fresche e buone ok quindi così va bene? si va bene adesso mi prendi anche un peperone mezzo peperone rosso mezzo peperone mezzo peperone verde e mezzo peperone rosso ok quindi facciamo così ecco qua ecco questo ti tolgo un po' i semetti si ma quanto profumo i peperoni poi questo insomma si sente? si e questo è un piatto che sprigiona praticamente un profumo un ciabotto che poi col ciabotto diciamolo così si può tenere in frigo ce l'hai lo puoi mangiare così una volta che c'hai un po' di ciabotto ci puoi fare qualsiasi cosa certo a me piace anche fatto al forno faccio vedere al forno si diciamo la semplice la TL si chiama io ci metto la pasta da forno e ci puoi mettere tutto quello che vuoi le verdure ci puoi mettere anche se vuoi un pezzettino l'agnello se è rimasto un pezzettino di pollo se ce l'hai il massimo uno cosciotto quello che preferisci e diciamo più ne metti e più gusto ha quello tutto cottura al forno l'estate ti aiuto vado a cubetti sembri a cubetti non sono veloce come te va bene non fa niente l'importante come farò questo mese di pausa che faremo senza di voi di sicuro andrai sempre in cucina a sperimentare tutte le ricette che abbiamo fatto quest'inverno non ha tra gli stessi prodotti io sempre e anche i nostri telespettatori ci mandano sempre tante mail per ringraziarci delle nostre ricette perché le sperimentano nelle loro cucine e sono anche molto soddisfatti ma sì ma poi sono ricettine diciamo quelle che facciamo noi sono ricettine semplicissime fatte belle da realizzare poi noi abbiamo una fortuna siamo abruzzesi e l'abruzzo insomma non ci manca niente abbiamo una materia prima non ci manca niente tutto è buono tutto è buono tutto è buono tutto è fresco ai formaggi alle verdure ai vini veramente non abbiamo da invidiare niente a nessuno dobbiamo solo proporre e valorizzare a questo si butta? un po' di più no no mai fanno anche molto bene sì e qua ecco di estato ci dobbiamo abbronzare quindi la prima della rote allora abbiamo messo un po' di tutto Jennifer ok la cipolla e le ultime ci siamo ok adesso per fare il condimento di questa pasta lo ciabotto andiamo a mettere dell'olio in una padellina non troppo olio se no rischia che scola un po' sotto al piatto e il ciabotto che abbiamo fatto una volta che comincia un po' l'olio a friggere andiamo a mettere il ciabotto bel colore già si sentono i profumi aggiungiamo un po' di sale e un po' di pepe ecco già si sente il profumo dell'estate si sente il peperone classico la zucchina che non dobbiamo mai usare nel periodo invernale perché non c'è mai lo stesso sapore la zucchina d'inverno e il peperone d'inverno infatti la stagionalità è un requisito importantissimo ok allora una volta fatta praticamente abbiamo fatto bollire la nostra pasta lo sparone e si toglie l'involucro che l'avvolge di carta stagnola ancora ancora un po' bollente ci sono wow ma guarda che cosa particolare è un'ottima pasta adesso semplicemente togliamo ecco qua come si presenta vedi ma che meraviglia guarda come uniforme ecco qua e questo lo mettiamo nel nostro piatto non vedo l'ora di assaggiare tanto Jennifer semplicemente questa io l'ho voluto fare così semplice sempre ripeto la ricetta tradizionale è quella di metterci del sugo di carne del formaggio sopra si rimette in forno per 5 minuti e si tira fuori invece facciamo così la ricetta diciamo estiva con questo ciabotto che abbiamo preparato semplicemente poi anche questi ciabotto ci sta a chi piace un po' più duretto che si sente croccante e a chi lo fa passire di più a me piace così anche colore rimane vedi che bei colori anche a me i colori rimangono e il profumo e si sente croccante voglio approfittare di questo momento mentre tu continua ad impiattare per ricordare ai nostri telespettatori e riagganciarmi a quello che stavamo dicendo prima che le nostre ricette oltre ad essere disponibili su youtube a breve saranno raccolte in un ricettario che realizzeremo in collaborazione con Conad quindi nei nostri Conad potrete trovare questo ricettario con tutte le ricette che abbiamo realizzato insomma quindi praticamente potete trascorrere l'estate a realizzare le nostre ricette si viene voglia di cucinare allora qua io andrei a metterci un peperoncino piccante piccane meraviglioso te lo prendo l'olio piccante perché l'olio vedi ci sta poco olio ho messo poco olio alle verdurine per farle saltare e ci sta bene che mettiamo un po' di olio e un po' di piccante che questo prodotto è eccezionale e io ricordo ai nostri telespettatori che questo peperoncino è realizzato dall'azienda Casabria di Bolognano essiccato lentamente al forno croccante e saporito e che è disponibile presso i nostri Conad quindi chiunque lo voglia acquistare lo può tranquillamente trovare nei nostri Conad quindi abbiamo detto tutto abbiamo detto tutto Jennifer allora mentre tu assaggi io prendo una bottiglia di vino che può accompagnare questo piatto ok quindi facciamo a cambio posto ci invertiamo io mi impossesso di questa meraviglia e procedo con l'assaggio ma quanto è bello Antonio è bellissimo quasi quasi mi dispiace rovinarlo ma sono costretta a farlo e lo faccio con molto piacere queste verdurine croccanti hanno proprio un aspetto mmm tanto ci sta eccezionale ci sta allora io a questo piatto anche se è un bel praticamente è un raviolo lo posso dire c'è un raviolo sintetico non ci dobbiamo lo dobbiamo lo facciamo cuocere il ripieno del raviolo è semplicissimo allora io vado a mettere un caggiolo della cantina tollo ottimo accoppiamento anche se magari le temperature estive con questo vino possono anche un po' dà fastidio si può leggermente leggermente non troppo freddo servire un po' a temperatura un po' più fresca e si accompagna benissimo con questo piatto per i miei gusti Antonio io ho sempre vino rosso versane un po' anche per te facciamo un brindisi salutiamo i nostri spettatori e anticipiamo loro che anche domani saremo qui presso il ristorante Pontartana in compagnia del nostro chef Antonio di Giovacchino a domani con delle nuove ricette a domani da Grazie a tutti.